Un bilancio che riteniamo positivo è un mese di attività, praticamente gli ispettori ambientali e l'attività repressiva di controllo hanno iniziato il 29 ottobre, hanno fatto 10 sopralluoghi, praticamente fanno 10 sopralluoghi mese, con due squadre di due componenti e hanno rilevato circa 180 non violazioni dei regolamenti comunali. Di queste 180 violazioni, 34 sono stati individuati, sono stati tragressori, sono stati verbalizzati ovviamente a disposizione di legge e quindi su questo poi si provvederà a notificare la multa, la sanzione. Quindi sono sanzioni anche che fanno riferimento al nostro regolamento di polizia municipale e le sanzioni potrebbero essere anche più importanti qualora fossero individuati soggetti attività imprenditoriali e quindi conferiscono in maniera non lecita i rifiuti speciali. Sostanzialmente vanno a cercare quelle situazioni in cui si denota un non corretto conferimento dei rifiuti, andando e aprendo poi i sacchi e individuando se è possibile in quei casi a chi fa riferimento la provenienza. E su quello chiaramente viene verbalizzato e poi gli verrà notificata la sanzione. Devo dire che sono i cittadini ma sono anche talvolta purtroppo gli esercizi commerciali, non rendendosi conto che la cattiva qualità del contesto urbano che si viene a determinare è un deterrente nei confronti di quella molla turistica che loro stessi invocano come molla economica. Quindi dobbiamo metterci una pezza noi, lo facciamo attraverso questa attività di controllo, un po' anche di tipo ispettivo, come diceva giustamente l'assessore, si aprono anche i sacchi, si vede cosa c'è dentro e da quello che c'è dentro si può riuscire a risalire la provenienza e quindi alla sanzione nei confronti di chi ha prodotto questo cattivo uso dell'ambiente urbano. Io spero che questo pian pianino diventi un modo corretto del cittadino di trattare il rifiuto solido urbano, un po' per aumentare le percentuali di differenziata, ma dall'altro canto anche in maniera molto positiva cercare di migliorare la qualità della differenziata, perché solo da una differenziata di buona, di alta qualità si ottiene un ritorno economico, che è alla base del processo di riuso e alla base del processo di abbattimento della tariffa, che è il mio must di sindaco della città di Arezzo. Sanzioni ci sono di vario tipo, dipende dal tipo di infrazione che hanno prodotto, in certi casi c'è anche il penale, quindi è opportuno sapere che la spazzatura va conferita secondo le regole che non solo il Comune, ma anche i vari codici hanno stabilito. Purtroppo ci dobbiamo rendere conto, siamo dei grandi produttori di spazzatura, perché la nostra società consumistica ci rende quasi indispensabile produrre tanta spazzatura. Dobbiamo cominciare, proprio nella famiglia, a metterci la testa, a cercare di usare meglio le cose e di usarle in maniera tale da produrre una quantità inferiore di rifiuto, anche perché nei nostri programmi c'è quello di arrivare a una tariffa puntuale, cioè il cittadino non oggi ma nei prossimi mesi o anni pagherà per quello che conferisce, quindi meno spazzatura produce e meno paga e questo è probabilmente l'anello di chiusura di una catena che si stringe intorno alla tariffa, che ripeto, noi tutta l'amministrazione vuole ridurre il più possibile.